Buongiorno a tutti, sono Tiziana Guerra, Presidente della Commissione Quarta del Comune di Carrara, che ieri si è riunita con all'ordine del giorno la votazione dei verbali delle sedute precedenti, la votazione della delibera dirigenziale riguardante le modifiche al regolamento delle consulte anziane di disabilità, la votazione della mozione relativa alla gestione della pagina delle associazioni di volontariato. Inoltre abbiamo avuto come ospite l'ex Presidente della Commissione Pari Opportunità, il signor Bandoni, il quale ha portato un bilancio delle attività svolte, le criticità rilevate durante l'esorgimento delle varie attività della Commissione, ma anche punti di forza che secondo lui dovrebbero essere, ed anche secondo noi, mantenuti anche nella prossima Commissione che andremo a istituire. I documenti in uscita dalla Commissione sono stati portati al Consiglio Comunale che si è svolto la sera e quindi abbiamo discusso appunto la mozione attraverso la quale abbiamo impegnato la Giunta ad attivarsi per creare la pagina web destinata alle associazioni del terzo settore che potranno utilizzarla per pubblicizzare le attività che svolgono sul territorio, inserire informazioni su corsi che potranno essere attivati per la popolazione, richiedere dei volontari oppure anche richiedere partenariati per portare avanti la fase di progettazione. L'altro intervento che abbiamo fatto è invece stata la presentazione della delibera dirigenziale che va a modificare il regolamento della consulta anziana e disabilità attraverso la quale abbiamo inserito il punto 11 all'articolo 8 dei regolamenti prevedendo che i presidenti delle varie consulte debbano incontrarsi almeno una volta ogni 4 mesi per discutere insieme di quanto in uscita dalle singole consulte poiché abbiamo valutato ed evidenziato come in realtà molti degli aspetti che vengono gestiti da una singola consulta siano comuni anche alle altre.